Si riaccendono i riflettori nello studio di Verissimo, uno dei talk show più amati della televisione italiana. Oggi Silvia Toffanin torna in onda con interviste esclusive e racconti di vita emozionanti, pronta ad accogliere ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, rendendo ogni puntata unica e ricca di sorprese. La puntata di questo sabato sarà all'insegna di celebrazioni, musica e storie d'amore appassionanti. Ecco tutti gli ospiti attesi nel programma di Canale 5 in onda questo pomeriggio, sabato 2 novembre 2024. Verissimo oggi ospiterà Arisa, cantante e giudice di programmi cult come Amici e The Voice Generation. Rosalba Pippa, vero nome dell'artista lucana, presenterà il suo nuovo brano e canta ancora, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Con lei ci sarà Samuele Carrino, il 15nn protagonista del film, che racconterà il toccante percorso interpretato nella pellicola. Arisa condividerà in retroscena della collaborazione musicale e il legame artistico che l'ha portata a scrivere un brano così profondo, a sostegno di un messaggio di inclusività e speranza. Non è da escludere, però, che Silvia Toffanin decida di parlare con lei anche di vita privata e soprattutto d'amore, poiché Arisa recentemente ha confessato di vivere una fase di down della sua storia con Walter Ricci, il fidanzato musicista con cui ha una storia dalla scorsa primavera. Verissimo celebrerà anche il grande Fausto Leali, che lo scorso 29 novembre ha raggiunto il traguardo degli 80 anni. Leali, conosciuto per la sua voce inconfondibile e per il grande contributo alla musica italiana, ripercorrerà i momenti salienti della sua lunga carriera. Attualmente impegnato come caposquadra nel programma Io Canto Generation, l'artista condividerà con il pubblico l'emozione di poter ispirare le nuove generazioni di cantanti, nonostante gli anni di esperienza sulle spalle. In studio ci sarà anche il cantante Virginio, che racconterà il suo percorso musicale e presenterà il nuovo singolo La Marene. Da vincitore di Amici alla crescita come cantautore, Virginio parlerà dell'evoluzione della sua carriera e delle emozioni racchiuse nel suo ultimo lavoro. Tra gli ospiti di questa puntata ci saranno anche Diandra e Valerio, coppia protagonista di Temptation Island, pronti a condividere le dinamiche della loro relazione. Patrizia Pellegrino, accompagnata dall'amata mamma Elena, offrirà un toccante spaccato della sua vita e delle sfide personali affrontate. La Showgirl, che dallo scorso anno lotta contro un tumore al rene, aggiornerà i fan sul suo stato di salute e parlerà del suo nuovo libro, Ho scelto di sorridere, in cui racconta il modo in cui ha affrontato la malattia. Infine, Silvia Tofanin accoglierà Ciala Demir e Rusgar Aksvi, conosciuti rispettivamente come Banu e Tariq nella serie Endless Love. I due attori turchi, amatissimi dal pubblico italiano, racconteranno la loro esperienza nella famosa serie e la loro prospettiva sui personaggi che interpretano, regalando così uno sguardo inedito su una delle serie più seguite. L'attesissima puntata di Verissimo di oggi andrà in onda come di consueto su Canale 5 a partire dalle ore 16 e 30 e sarà disponibile in streaming sia in diretta che in modalità on demand su Mediaset Infinity. Non perderti questo emozionante appuntamento. E voi, ci sarete!